Il mio limite era obiettivamente quello di trovare un vero posto da chiamare casa però qui mi ci sento, un po' perché sento comunque l'energia del nonno che ha creato tutto questo, sempre con me che mi protegge Ho viaggiato molto, ho avuto la fortuna di poterlo fare grazie comunque a miei genitori che mi hanno sempre lasciata libera di andare alla ricerca alla ricerca di situazioni, di posti, di me stessa anche Ok, sono qui, sono a casa mia, in realtà è la casa che ha costruito mio nonno per momenti di condivisione, per condividere, in questo caso anche la musica Tra un po' arriveranno i miei amici, le persone con cui scrivo con quella fortuna di fare bella musica e creare anche tanti bei momenti quindi vi tengo aggiornati e ci vediamo presto Ciao baby, ciao raga, che bello che siete qui Andiamo? 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 Tutto bene voi? Quanto ci avete messo ad arrivare? Sono felice di aver portato degli amici con cui ho la fortuna di lavorare per scrivere un po' quello che è il mio nuovo capitolo musicale quella che sono io adesso emotivamente, psicologicamente Il modus operandi che adotteremo sarà un po' quello dell'home studio in varie situazioni, quindi magari ci sarà un gruppo di lavoro composto da un produttore e un autore un altro fatto da due produttori che collaborano insieme a un autore e io diciamo che girerò di gruppo in gruppo ovviamente collaborando con tutti quindi sarà anche un modo magari più veloce di buttare giù idee di passare da una canzone all'altra da un certo punto di vista non so cosa mi aspetterà perché io lavoro sempre ad un brano alla volta facciamo, abbiamo strofa, strofa B precorus, usiamo la parte dell'intro ci guardiamo negli occhi e iniziamo senza dover neanche definire degli orari lavorativi perché non è lavoro questo la musica non si fa meccanicamente ed è appunto per questo che ho chiesto a tutti di venire, di omaggiarmi con la loro arte con la loro presenza per me è una celebrazione questa è una grande festa, è un carnevale è tutto quello di più vero che io potessi chiedere per questa settimana di scrittura Vincenzo è quella nota un po' più diciamo anche tecnica del gioco cioè lui riesce a giocare molto con le parole a rendere anche sfizioso il lavoro siamo partiti dalla base di Simone ho buttato giù un beat dove Gaia ha scritto diverse top line abbiamo scelto quelle che ci ispiravano di più quelle che ritenevamo più forti per la strofa tendenzialmente parto sempre da un beat lo butto giù con il produttore con il lavoro, in questo caso Simone troviamo una bella idea per gli accordi quindi poi posso appoggiarci delle melodie che diciamo creo un po' freestyle quindi le invento poi vado a fare una selezione delle migliori e lì inizio a costruire il testo io e Simone ci capiamo immediatamente tiriamo fuori il meglio di noi quando siamo insieme quindi cerchiamo di stimolarci a vicenda ho cominciato a costruire il beat e pian piano con Gaia, con Vincenzo abbiamo cominciato a sviluppare tutto quello che è la top line il testo di cosa voleva parlare questa canzone le top line sono le melodie la melodia è molto spesso è la prima cosa che viene scritta quando si lavora su un beat su una base e magari si butta giù un fake Italian un testo finto italiano appoggiato in freestyle diciamo che poi viene sostituito dal testo vero e proprio abbiamo trovato la strofa abbiamo trovato il pre-chorus e giusto ora abbiamo trovato la melodia del ritornello che andremo poi a scrivere anche testualmente adesso facciamo un mini aperitivo mini ape per i ragazzi che sono arrivati a casa per scrivere quindi prima vivi il vino si sta scaldando brindhiamo esatto adesso mi aggrego io e grazie raga perché per me è mezz'aria non è esatto ecco qua vai felice che siete qua per me non lavoro e vacanza vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti